A livello europeo abbiamo detto che in questa materia non si può fare a meno di guardare la normativa a livello europeo, ve l'ho già spiegata questa cosa, tutto il mercato legato alla creatività soprattutto quando passa attraverso internet è necessariamente a livello internazionale quantomeno europeo e a livello europeo abbiamo detto che c'è questa direttiva che abbiamo già citato, oltre alla già citata 9871 CE, vi ricordo che 98 l'anno, 71 il numero CE sta per comunità europea, circa protezione giuridica dei disegni e modelli, viene introdotto anche un regolamento europeo del 2002, il regolamento 6 del 2002 su disegni e modelli comunitari, quando si chiamano regolamento in realtà sono diversi dalle direttive, vuol dire che sono delle norme già pensate per essere direttamente operative in tutti gli stati dell'Unione Europea, quindi questo è quello che è successo con il famoso GDPR, quello sulla privacy che due anni fa e l'anno scorso ha impattato molto sui vari siti web, sulle varie policy che vi arrivavano a casa, l'aggiornamento della policy è legato a quello, perché un regolamento europeo aveva rinnovato le norme sulla privacy in tutta Europa, qua è successo la stessa cosa, il design è stato introdotto e regolamentato a livello europeo, quindi abbiamo delle norme di riferimento che sono uguali per tutti i paesi dell'Unione Europea, infatti vedremo dopo che per la registrazione di un design europeo faremo proprio riferimento a questo regolamento. Al pari del marchio europeo quindi questo regolamento istituisce un sistema di registrazione di modelli e disegni con effetto diretto in tutti i paesi dell'Unione Europea, come appunto nel marchio europeo voi potete andare all'ufficio europeo che prima si chiamava UAMI e adesso si chiama EUIPO e fare un'unica registrazione che però ha effetto costa un po' di più però ha effetto su tutti i paesi dell'Unione Europea, il che non è cosa da poco. E tra l'altro questo regolamento introduce un'ulteriore figura che prima non era prevista dalla normativa che è quella del design non registrato, anche lì tenetela un attimo lì perché dopo ne parliamo. Ho messo il link per leggere il regolamento, se qualcuno è così dirigente e vuole andare ad approfondire lì c'è il testo del regolamento. Cosa succede quindi? Che abbiamo questa, questa è la famosa sovrapposizione di tutele, il cumulo di tutele, eccolo qua. Tutte le varie protezioni applicabili al design, addirittura di quattro tipi. Diciamo che le prime tre sono quelle primarie, come ho chiamato, come ho scritto qua, e il quarto punto riguarda forme secondarie che però a volte nella vita di un design entrano in gioco e hanno un ruolo importante. Quindi ci sono quattro forme possibili di protezione, la prima è la protezione per registrazione, quindi vado all'ufficio tale, all'ufficio preposto e registro deposito e ottengo la registrazione del mio design, pago la somma prevista, la tassa diciamo di registrazione e per tot anni ho una tutela su quel design. Dopo spieghiamo bene come funziona. La protezione per diritto d'autore, che abbiamo detto che scatta solo e unicamente quando il design denota il valore artistico oltre che il carattere creativo e quella è una protezione che è molto potente perché già il fatto che dura un bel po' di anni in più e che ha tutti i diritti di utilizzazione economica che agiscono su un'opera dell'ingegno come se fosse un libro o un brano musicale, ma l'abbiamo spiegato nella parte sul diritto d'autore. Quindi vuol dire avere tendenzialmente due tutele perché quando il design diventa opera tutelata da diritto d'autore è perché probabilmente è già stato registrato come design prima, quindi ecco la cosetta sovrapposizione. E poi vediamo che secondo quel regolamento del 2002 si può proteggere anche come design non registrato, che è un po' l'equivalente del marchio di fatto, del marchio non registrato che abbiamo visto nella lezione sui marchi. E poi, punto 4, ci sono anche forme secondarie. Ad esempio, il marchio di forma viene utilizzato per tutelare anche il design del prodotto, cioè la forma esteriore del prodotto, non come design in sé, ma come marchio. Ne abbiamo parlato come marchio di forma. Ci torniamo, ho ripreso le slide identiche che c'erano una lezione sui marchi, però alla fine i principi sono gli stessi. E anche la famosa concorrenza sleale per imitazione servile. È la norma, il 2598 codice civile che abbiamo citato alla fine delle slide sui marchi. Io avevo detto dove non arriva il diritto sui marchi, spesso gli avvocati tirano fuori i principi relativi alle norme sulla concorrenza sleale. E lì c'è proprio all'interno dei tre casi previsti dall'articolo 2598 codice civile, c'è proprio quello per imitazione servile che va a toccare anche un aspetto di design. Cioè quando io imito servilmente i prodotti di un altro, ad esempio abbiamo fatto delle chitarre, degli orologi, siamo a cavallo tra il marchio e il design. E addirittura legalmente, tecnicamente non si chiama in caso né una norma della parte sui marchi, né una norma della parte sul design, ma in realtà è una norma sulla concorrenza sleale tra imprese. La differenza ecco tra disegni e modelli versus modelli di utilità, sarete confusi, ci ho messo anch'io un po' a capire, perché la norma prevede, da un lato abbiamo i disegni e i modelli di cui parliamo oggi, ma poi nelle slide relative ai brevetti abbiamo parlato dei famosi modelli di utilità. E voi direte, ma sono la stessa cosa? No, cioè note che formalmente non sono la stessa cosa, anche se a volte è difficile davvero capire in quale dei due campi siamo, però ecco questo è una slide che dovrebbe in un certo senso aiutarvi a districarvi. Non bisogna quindi confondere i disegni e i modelli con i modelli di utilità di cui abbiamo invece parlato nella lezione sui brevetti. I modelli di utilità, l'abbiamo già spiegato, proteggono per mezzo di un meccanismo brevettuale quelle forme nuove di un prodotto capaci di garantire allo stesso una specifica funzione. Siamo nel mondo più del brevetto, quindi quello che conta è la funzionalità piuttosto che l'aspetto estetico. Come detto quindi assomigliano più che altro a delle invenzioni minori, viene tutelato più che altro l'aspetto della loro funzionalità. Il sistema dei disegni e modelli invece vuole tutelare tramite la registrazione l'aspetto esteriore di un manufatto industriale. Adesso voi mi direte ma come ma poco fa ci hai detto che però adesso le cose si stanno sovrapponendo perché si è capito che il design non è solamente ornamento, abbellimento estetico ma è anche user experience, usabilità e anche studio della ergonomia di un prodotto. È vero, infatti siamo un po' a cavallo di questi due mondi, però a livello concettuale dovete tenere presente che non sono la stessa cosa. Questo potrebbe essere un esame, una domanda che vi faccio l'esame, ma che differenza c'è tra i disegni e i modelli previsti dalla normativa sul design e i modelli di utilità previsti dalla normativa sui brevetti e sulle invenzioni. Invece, in questo slide che ho preso dal sito Altalex, un articolo che mi sembrava fatto abbastanza bene, anche perché cita di Cataldo, Spada, Ghidini che sono dei mostri sacri del diritto alla proprietà industriale, fa capire come appunto è una distinzione più che altro teorica che concreta, dottrinale che concreta. Leggiamo, è un virgolettato questo, quindi leggiamo cosa dice l'articolo. Ciò che può essere tutelato mediante registrazione con i disegni e i modelli è la resa puramente estetica e non funzionale di un prodotto, senza la necessità che essi presentino in una particolare gradevolezza. Come afferma l'autorevole dottrina, a questa netta distinzione tra modelli di utilità e disegni e modelli non corrisponde una distinzione in concreto altrettanto sicura, in quanto una stessa forma può contemporaneamente assolvere a funzioni pratiche ed estetiche, contemporaneamente appunto, quindi questa duplicità dei ruoli è anzi normale per le opere del cosiddetto industrial design, quello che fate voi. Il design del prodotto, come abbiamo detto, comprende questi due aspetti. Certo che se parliamo di una particolare vite che deve finire in un ingranaggio di un impianto industriale, sì, lì non è che conti molto l'aspetto estetico, deve essere disegnata in modo tale che si avviti più facilmente e non crei attrito, cioè c'è uno studio diverso. Quella roba lì non è un'invenzione industriale, però può essere intesa come modello di utilità. Diverso è appunto l'oggetto d'arredo, l'estetica, non so, lo chassis di un computer, di una tv, di una lampada e via dicendo. Non so se ho risposto al dubbio, però ecco, questo è un po' come la dottrina ci spiega questa differenza, ma ci ricorda anche che è più che altro appunto una questione dottrinale non tanto concreta, perché poi nella giurisprudenza non si riscontra così tanto.